Ed è giunto il momento di condividere i vostri scatti numerosissimi che oggi ci state inviando al 331 737 8033. Con l'aiuto della regia di Vito e Domenico partirei subito con condividervi questa effigie della Madonna del popolo aquilano da parte nostra, ossia da parte di Rossella Maria e sua figlia Sara Francesca. Grazie. E poi uno scatto notturno che ci arriva da Borgo Santa Pollinare in provincia di Chieti. Ringrazio Federico per questo scorcio molto bello di Santa Pollinare. Rimaniamo più o meno in quell'area geografica perché Angela ci invia questo scatto meraviglioso della facciata della Basilica di Castelpetroso. Questa volta siamo in provincia di Isernia. Poi ancora un buongiorno ce lo invia Mina da Francavilla Fontana con uno degli scatti più suggestivi che ci possono arrivare dalla Puglia, quello dei trulli di Alberobello. Grazie Mina. E poi una buona giornata da Laura e famiglia con questo dolce volto della Madonnina. Da qui andiamo in Sicilia dove Concetta ci condivide questo scatto sulle gole dell'Alcantara. Grazie Concetta. Anche questo è uno scatto che davvero ci toglie il fiato per la sua bellezza. Rimaniamo in ambiente naturale. Il buongiorno che ci arriva da Roberto e d'Anna da Latina. Ci mostra il mare di stamattina a Latina Lido. Veramente impressionante ci scrivono loro e il contrasto di colori che probabilmente fanno riferimento a questo. Grazie Roberto e d'Anna, uno scatto davvero molto bello. Poi un buongiorno da Jenny, Cava dei Tirreni, Salerno. Qui andiamo a fare un salto in aperta campagna con tra l'erba e i fiori e gli alberi in fiore. Grazie Jenny. E poi concluderei con il buongiorno che ci manda in occasione dell'apertura del mese di maggio. Francesca, ci sono arrivato e ce lo invia dalla sua parrocchia in Immacolata Concezione di Cannizzaro ad Aci Castello. Bene, per il momento con le foto ci fermiamo qui perché dobbiamo dare spazio ad un altro collegamento che vi preannunciavamo, quello con Luca Iacovone, uno dei giovani del team di The Economy of Francesco. Magari ci faremo spiegare dallo stesso Luca che cos'è The Economy of Francesco e che cosa stanno organizzando per il mese di maggio, occasione, motivo per il quale stiamo per realizzare il collegamento con lui. Lo vedo già nel nostro maxi schermo e lo ringrazio per la sua disponibilità. Ciao Luca, buongiorno e bentrovato. Buongiorno Tony, buongiorno a tutti i telespettatori. Sei in diretta in Mondovisione, devi sapere, ma del resto lo sai che ci seguono da tutta Italia, dal nord al sud, isole comprese, molte volte anche da oltralpe, come si suol dire. E poi ovviamente chi si collega tramite internet in streaming a www.padrepio.tv ci può seguire davvero da tutto il mondo. Quindi a Reti Unificate, Luca, ti chiederei di raccontarci in parole semplici che cos'è The Economy of Francesco di cui appunto facevo cenno qualche istante fa? Sì, The Economy of Francesco è oggi un grande movimento mondiale appunto. Abbiamo richiamato l'internazionalità della rete e dell'affetto insomma che stimola in tutto il mondo. E lo stesso Economio Francesco raccoglie in questo momento in tutto il mondo giovani economisti, imprenditori e changemakers che hanno risposto ad una lettera che cinque anni fa, ad un invito che cinque anni fa Papa Francesco ci ha rivolto. Pensa è una lettera che lui ha pubblicato proprio il primo maggio, quindi abbiamo festeggiato qualche giorno fa appunto i primi cinque anni da questo invito che appunto ha animato questa grandissima community mondiale di economisti che provano a rispondere all'invito del Papa che era appunto quello di provare a dare un'anima all'economia. E nell'ultimo messaggio, perché poi ci siamo incontrati dal 2019, insomma nonostante i problemi che negli anni ci sono stati e poi a causa della pandemia, ma abbiamo confermato ogni anno il nostro appuntamento ad Assisi o online e nell'ultimo nostro incontro che è stato proprio ad ottobre del 2023, il Papa ancora una volta ci ha sollecitato a fare qualcosa per la pace, ad essere economisti che non si danno pace per la pace. Ci ha detto appunto essere oggi economisti, imprenditori di Francesco significa essere necessariamente uomini di pace. E voi questo invito l'avete accolto e l'avete trasformato in un progetto, un progetto che prende il via proprio in queste ore. Ti pregherei di parlarcene perché del resto lo leggevamo anche nel sottotitolo. Che cos'è Tips for Peace? Sì, il Papa appunto ci dice non datevi pace per la pace. Questo senso di inquietudine che abbiamo vissuto perché appunto siamo abituati a non considerare la pace come un tema necessariamente correlato all'economia. Invece il Papa ci ha sollecitato in questo e abbiamo sperimentato la stessa, almeno abbiamo riconosciuto la nostra inquietudine. Cosa possiamo fare? Quale può essere il nostro contributo su temi così importanti e sensibili per le persone oggi? E ci siamo fatti ispirare ancora una volta da San Francesco che 800 anni fa, forse mosso dalla stessa inquietudine, ha deciso di mettersi in cammino e di arrivare alle porte del Cairo per incontrare il sultano d'Egitto. Abbiamo detto che probabilmente tocca a noi fare anche lo stesso, metterci in cammino, provare a raggiungere a piedi Gerusalemme. Tu pensa, la distanza tra Assisi e Gerusalemme l'abbiamo calcolata in 8 milioni di passi, 4.000 chilometri. E non avendo un San Francesco a disposizione, disponibile appunto a percorrere questi 8 milioni di passi da solo, abbiamo ancora una volta invitato questa grande community in tutto il mondo a rispondere. E quindi chiunque da tutte le parti del mondo può donare passi a Steps for Peace, questa grande marcia mondiale che vuole coprire la distanza, idealmente, tra Assisi e Gerusalemme, attraverso tantissimi cammini a pezzi. I cammini a pezzi chiaramente ci richiamano quella che Papa Francesco ha più volte chiamato e denunciato come la terza guerra mondiale a pezzi. Così già dal primo maggio sono partiti dieci cammini in tutto il mondo, veramente tra Spagna, Portogallo, Messico, Brasile, Uganda e Giordania, di più di cento giovani che hanno iniziato a raccogliere passi per questa iniziativa. Grazie Luca, davvero un progetto bellissimo e noi cercheremo di seguirlo anche grazie al tuo aiuto nel suo svilupparsi lungo tutta la lunghezza che separa Gerusalemme da Assisi. Abbiamo visto anche il sito ufficiale di The Economy of Francesco, ve lo ricordo subito, è www.francescoeconomy.org, in evidenza c'è proprio il progetto di cui Luca ci ha appena parlato e sicuramente Luca possiamo seguirvi anche sui canali social. Sì sicuramente, sul sito proprio al link che hai appena menzionato è possibile proprio candidarsi per donare o organizzare piccoli cammini utili a raccogliere passi per la pace e permettere poi ad una delegazione di Economio Francesco di raggiungere effettivamente Gerusalemme per incontrare i giovani che lì vivono. Noi alla dimensione del cammino siamo particolarmente affezionati perché è un po' la metafora della vita e della nostra fede per cui, ecco, se sei d'accordo ci farebbe piacere nel corso di questo progetto ritornare di tanto in tanto a gettare uno sguardo su quello che sta succedendo. Con tantissima gioia. Bene, ci abbiamo le prove, ti abbiamo registrato per cui non potrai sfuggirci. Luca, noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia e condividere questo bellissimo progetto nato dall'impegno di voi giovani di Economio Francesco e ti lascio una battuta finale per le conclusioni e i saluti. Sì, la battuta non può che essere appunto relativa alla pace. La pace ha a che fare con l'economia, ha a che fare con tutto quello che noi facciamo tutti i giorni dal conto in banca ai prodotti che acquistiamo nei supermercati. Rendercene consapevoli può diventare davvero l'occasione per diventare protagonisti di un mondo diverso. Non soltanto spettatori di terribili notizie che si rincorrono nei telegiornali ma protagonisti di una storia da costruire insieme. Grazie Luca. Costruiamo la pace perché la pace è generativa, diciamo no, a tutte le guerre. Anche quelle microscopiche che tante volte prendono forma anche nella nostra quotidianità. Grazie ancora Luca. Quindi a prestissimo e buon cammino a voi. Grazie a voi e a presto. Linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.